Nella famiglia reale, il potere di sigillare la calamità si tramanda da madre in figlia. È un talento sacro risvegliato dalle preghiere. Così mi hanno sempre raccontato. Tuttavia, mia madre percepiva una grande energia mistica dentro di sé. E mia nonna udiva le voci degli spiriti. Io invece non sento niente di tutto ciò. Mio padre mi rimproverà in continuazione. Lui dice che perdo tempo, che mi diverto a giocare alla ricercatrice. Però io non ho mai smesso di pregare fin da quando ero piccola. E continuo a implorare nei miei pellegrinaggi ai luoghi sacri. Eppure il potere mistico in me non si è mai manifestato. O Dea, dimmi. Cosa c'è? Cosa c'è che non va in me?